E così ragazzi ormai è fatta, Juventus pronti all'anno zero, parole del padron Elkan. Pieni poteri aggiuntoli e probabilmente Motta che dovrà ricostruire la Juventus. Allegri fuori dai giochi, sembra che questa volta non menzionare Massimiliano Allegri in quella lettera agli azionisti significerebbe mettere la parola fine all'Alegri bis che ahimè non ha portato a nulla. Sono contento di questa decisione, spero che appunto sia realtà, ma al 100% è realtà, in modo da appunto iniziare un capitolo veramente nuovo, senza rimpasti, più che rimpasti, passatemi termine migliore, diciamo minestre riscaldate ecco, quindi godiamoci almeno la Coppa Italia che Allegri possa chiudere il ciclo definitivo alla Juventus vincendo comunque quest'anno almeno la Coppa Italia e ad agosto Motta ricostruire la Juventus.